Sarebbe un bellissimo spazio verde a disposizione di tutto un quartiere per poterci passare momenti di relax o per farci giocare in tranquillità lontano dal traffico i bambini o anche per fare una passeggiata nel verde. Tutto questo certo è possibile se non fosse che alcune malsane frequentazioni soprattutto notturne guastano l'atmosfera e non solo lasciando anche pericolosi ricordi del loro passaggio. Non è la prima volta che gli abitanti del vallato ci segnalano questo problema ancora irrisolto purtroppo di persone che vi passano la notte bivaccando o addirittura usando il parco per i propri bisogni fisiologici o dei propri animali lasciando poi i ricordini appesi qua e là come purtroppo avviene anche in altre zone pubbliche della città. Come si fa a far giocare serenamente i propri figli ci dicono alcuni abitanti se poi troviamo piantate negli alberi come frecce o peggio ancora lasciate con gli aghi scoperti tra i cespugli siringhe usate sporche di sangue. Con che serenità possiamo venire qui e goderci questo spazio reso anche così bello grazie all'intervento volontario di alcuni benemeriti cittadini che vi abitano migliorandolo e accudendolo con amore? Domande ancora irrisolte. Ora poi ad accentuare lo scarso decoro della zona un altro problema irrisolto la mancata potatura da parte del comune di alcune piante di tigli i cui rami sono così bassi da rendere la vita difficile anche alla macchina per la pulizia delle strade che abitualmente al suo passaggio spezza e rompe i rami degli stessi alberi come ha anche fatto la macchina per le asfaltature in questi giorni contribuendo così al precario decoro di tutta la strada.